Appuntamento con Baschettando, siamo all'Auto Calvi a Domenia, insieme a noi forse l'MVP della vittoria della Paffoni, insieme a Di Emilio alla Palacoverciano di Firenze, Jacopo Balanzoni, ciao Jacopo. Ciao, ciao a tutti, grazie per i complimenti. Grazie dell'MVP, anzi facciamo cosa che viene un filino più vicino a me, perfetto. Insieme a Jacopo il Vice Presidente è Carlo Alberto Pedulazzi, ciao Vice Presidente. Ciao e buonasera a tutti. Insieme a Carlo Alberto poi abbiamo Birillo, aglias mio cugino, aglias Marco Bussoli. Ciao Birillo. Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Allora, partiamo proprio dal significato della vittoria di sabato, Jacopo, Carlo Alberto e poi anche Marco. Direi che, l'ho detto anche nel servizio Nette del Giornale, che poi rivedremo, ci sono vittorie e vittorie. Quella di sabato appartiene a delle categorie di vittorie che possono dare qualcosina in più nel gruppo, nell'autostima e anche, ripeto, nel processo di crescita fuori dal campo che questa squadra ha intrapreso da agosto ad oggi. Sì, ci sono vittorie e vittorie, una vittoria del genere, lo scontro al vertice, in casa loro, dopo 25 minuti disastrosi, perché alla fine ci siamo trovati a quasi meno 20, meno 17. E recuperare, rimontare di voglia, di grinta come collettivo è importante, sia per la classifica, per i due punti, ma soprattutto per il futuro. Perché eravamo già consapevoli di essere un bel gruppo, abbiamo fatto quello scivolone in casa con Valsesia, ma ci siamo ripresi, abbiamo vinte abbastanza agevolmente tutte fino a Firenze. Questa è stata una bella battaglia che ha confermato ancora una volta che siamo una squadra vera, tosta, vera. Non siamo solo dei buoni giocatori o degli ottimi giocatori messi insieme, ma puntiamo a vincere e l'abbiamo dimostrato. Alberto è forse stata la vittoria più bella dell'anno, questo è senza ombra di dubbio. Ha ricordato, ne abbiamo parlato sabato a cena, la vittoria con Pescara dello scorso anno, anche se lì il disavanzo in Coppa Italia era lì sul meno 7 con Arrigoni fuori che rientra con le due bombe. Sabato era il meno 17, è stata una vittoria da sapore veramente dolcissimo. Assolutamente sì, una vittoria straordinaria, in circostanze molto difficili, perché come ha detto Jacopo, lui ha dato 25, io dico 27 minuti, abbiamo subito soltanto Firenze, siamo stati soggiogati sotto ogni punto di vista e poi improvvisamente qualche cosa si è acceso e se non sbaglio in 7 minuti gli abbiamo rifilato un parziale di 26 a 2 che ovviamente ha ribaltato completamente la partita. Io, che di partite a tutti i livelli di basket, ne ho viste tantissime, raramente ho visto 7 minuti giocati in una maniera praticamente perfetta. Firenze non ci ha capito più niente, mi è sembrato strano che anche Nicolai non abbia cercato di fermarci e quindi chiamando un minuto di sospensione non l'ha fatto, vuol dire che effettivamente l'onda Fulgor ha travolto tutti, è stata veramente una serata formidabile. Perillo, l'ho detto giustamente caro Alberto, non è facile quando ci sono squadre di pari livello o di presunto pari livello assistere ai parziali del genere, quando c'è una squadra nettamente più forte dell'altra, può essere che ci sia un parziale di 20 a 0, 15 a 0, ma 26 a 2 con Nicolai che come diceva giustamente, io credo che quando veda la Paffoni negli ultimi anni abbia un sussutto perché già l'anno scorso ci aveva capito poco o nulla nel doppio confronto nella partita di ritorno qui al Palabattisti in infrasettimanale e ancora meno in semifinale in Coppa Italia. Però insomma un 26-2 di parziale è davvero strano da vedere. Sì, io credo che forse il dato testimonia un po' il cambiamento di atteggiamento e la forza che la Paffoni ha espresso nella seconda parte di gara, che forse è il dato più importante per una partita che è giocata a fine novembre e come diceva giustamente servirà poi per la storia di questo gruppo e forse per come è venuta è un'ulteriore spia di un gruppo che sta lavorando in un determinato modo, che sta crescendo e quindi ha dimostrato che mentalmente, fisicamente e ovviamente, tatticamente e tecnicamente sono pronti anche per reagire a situazioni che appaiono magari complesse contro squadre di pari livello e la forza di un gruppo poi la si vede in questi momenti. E se il risultato è stato 26-2 con Firenze che è andato probabilmente anche in bambola dallo staff tecnico ai giocatori, oltre ai demeriti che possono avere loro, il grande forse dato oggettivo è la forza e la reazione che ha avuto la Paffoni nella seconda parte di partita. Questo forse è il dato più importante se io fossi dello staff tecnico della Paffoni che dovrebbe diventare un valore aggiunto su cui continuare a lavorare. Hai visto tu sabato nella partita particolare con la raccolta fondi anche a favore della borsa di studio per mio zio e tuo papà, che analogie e differenze vedi rispetto al passato? Al fine della partita mi hai scritto un messaggio evidenziando il grande valore tecnico e la profondità anche del roster che ha a disposizione Salvemini quest'anno. Sì, diciamo che io avevo visto un po' di tempo fa in precampionato addirittura la Paffoni in un amichevole contro la Robor Varese che è una squadra sicuramente di buona categoria. Scusami, un inciso, io ho detto nelle prime quattro ed è penultima, io questi sono i misteri della Palacanese, come faccia essere penultima con due vittorie? Anzi, la spiegazione c'è, perché evidentemente l'allenatore ha qualche responsabilità se gli fanno delle squadre competitive e retrocede i play-out, non fai play-off ed è penultimo, ce l'ha a Vescovi e a un'istituzione a Varese, però forse come allenatore. Ma sì, poi ogni squadra ha le sue alchimie, adesso bisogna conoscere un po' dall'interno certi meccanismi. Io quello che volevo dire era una riflessione sulla Paffoni, nel senso che l'avevo già vista in precampionato. L'ho visto in una partita oggettivamente semplice, non ho visto la partita ma ho seguito sul netcasting la partita di Firenze, che era un po' una partita un po' spartiacque, al di là del risultato era per capire un po' a che livello si era. E secondo me la Paffoni ha dimostrato la sensazione che avevo già provato a inizio anno di una squadra sicuramente costruita bene, molto competitiva da un punto di vista tecnico, di profondità del roster, con un tasso atletico importante, dove probabilmente poi anche i mismatch che possono crearsi nei pari ruolo potranno essere un valore tattico a disposizione di coach Salvemini, ma al di là di quello è una squadra che comunque è fatta di ottimi giocatori, con dei senior importanti che hanno anche un tasso di esperienza, al servizio, diciamo così, dei giovani che stanno esplodendo e di conseguenza è una squadra molto più solida e più profonda rispetto a magari delle Paffoni costruite con grandi ambizioni, ma che avevano forse qualche difetto strutturale. Quest'anno poi il campo sarà quello che parlerà, però in questo momento la squadra è sicuramente completa, avrà tutte le carte in regola per giocare, e poi ovviamente si giocherà e bisogna giocare fino al quarantesimo minuto dell'ultima partita, però sicuramente tutti i giocatori a disposizione dello staff tecnico sono in grado ovviamente di tenere il campo e di portare il loro contributo. Prima di vederci il servizio e le pagelle della partita, mi hai dato un assist che voglio coinvolgere, Carlo Alberto, Jacopo, poi di nuovo te, perché in una riunione simpatica Alberto aveva detto questo quando si parlava di mercato con il direttore sportivo Michele Burlotto erano stati presi tanti giocatori e tu avevi detto ok, però adesso anche gli under bisogna prendere, bisogna andare a mettere sei stato esaudito, no? E Michele sorridendo diceva è la prima volta che un presidente, un vicepresidente mi dice questo perché di solito si pensa a 6-7 super giocatori e poi gli altri di contorno, lui invece da profondo conoscitore di palacanestro perché come ha detto prima è un grande amante della palla a spicchi ha detto va bene, 7 super senior, però bisogna allenarsi, bisogna mettere nelle condizioni che rendono al meglio dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica. Assolutamente sì, tu sai benissimo che l'anno scorso noi siamo usciti da una stagione difficile con tutti gli infortuni in cui era difficilissimo allenarsi durante la settimana quantomeno con 10 giocatori disponibili e le mie preoccupazioni erano proprio in quel senso lì per il momento toccando ferro le cose vanno abbastanza bene nel senso che adesso abbiamo avuto qualche problema con Nelson poi adesso c'è Guido però insomma avendo coperto tutti i ruoli noi riusciamo comunque a sviluppare durante la settimana un lavoro costante con grande intensità e con grande qualità di lavoro che poi credo che si sia visto anche negli ultimi 13 minuti famosi di Firenze dove anche fisicamente la fulgora ha preso il sopravvento totale allora ci vediamo allora il servizio della partita delle pagelle poi chiedo a Jacopo e a Birillo un discorso anche sul roster prima però servizio sulla partita e relative pagelle ci sono vittorie che valgono più dei due punti in classifica molto di più perché cementano il gruppo esaltano l'ambiente e consentono di raggiungere il livello auspicato quella ottenuta sabato alla Palaco Verciano di Firenze dalla Paffoni è una di queste vittorie in trincea o meglio in apnea per 27 minuti sotto di 18 ad un passo dal baratro sportivo la squadra di Salvemini ha tirato fuori attributi e soprattutto ha cominciato a giocare una palla canestro perfetta su entrambi i lati del campo un parziale clamoroso difficile da vedere tra due squadre di questo livello ha spostato l'inerzia della partita tutta dalla parte rosso-verde è arrivato così un successo che significa primo posto solitario e di fatto consegna già il biglietto per la final eight di Coppa Italia alla Fulgor a meno di catacrismi nelle ultime quattro giornate del girone di andata protagonisti della vittoria in terra toscana sono stati in particolare Edoardo Di Emilio e Jacopo Balanzoni semplicemente devastante nell'ultimo periodo da parte mia dello staff e della squadra le parole di Coach Salvimini va un enorme grazie a tutti quelli che ci hanno seguito a Firenze e da casa sul PC è bello sentire tutto questo affetto e questa partecipazione abbiamo vinto una partita importante e l'abbraccio collettivo della squadra che gioisce a fine partita è un'immagine bellissima Grande, sette le percentuali non sono eccezionali le perse sono tante ma gioca senza mai un allenamento alle spalle nella settimana pre-partita e mette sette punti nella rimonta con un gioco da quattro punti Chi era? Sei non una serata particolarmente brillante l'impressione è che non riesca ad entrare in partita ma piazza comunque una tripla che si rivela determinante D'Alessandro, sette e mezzo una partita in cui abbina la solita quantità a tanta qualità colpisce tre volte dall'arco con una percentuale del 50% Arrigoni, sette dannoso nel primo tempo quando commette errori in serie metamorfosi clamorosa negli ultimi 13 minuti quando è uno dei protagonisti Balanzoni, otto irreale semplicemente irreale fa pentola e coperchi domina il confronto con Cuccarolo diventa un fattore assoluto nell'ultimo quarto quando schiaccia e segna anche da tre Diemidio, sette e mezzo la miglior partita in canotta rosso-verde dai tempi giusti fa giocare i compagni si prende iniziative quando serve smazza un paio di assist no look pazzeschi e difende e come se difende Rizzitiello, sette nel primo tempo se la Paffoni rimane in partita il merito è quasi esclusivamente suo che mette sette punti sul meno 15 nella ripresa entra solo alla fine a proposito di roster chiedo a Jacopo questo e poi lo chiedo a Birillo quest'anno che tu fossi che tu sia anzi un giocatore straordinario lo abbiamo potuto vedere lo scorso anno e lo stiamo vedendo quest'anno secondo me hai fatto un ulteriore step a livello fisico secondo me sei un filino più asciutto e poi correggimi se sbaglio sicuramente Giorgio mi sta mettendo nelle condizioni di dare il meglio mi dà molta fiducia spesso disegna giochi per mettere la palla dentro e quindi mi sento molto coinvolto e mi stimola poi a lui piace parlarci a quattro occhi sa che so dove devo migliorare sa anche lui quali sono le mie lacune e cerca di di farmici lavorare al meglio possibile poi è vero parlando di giovani quest'anno abbiamo avuto la sfortuna di alle grande dell'incidente Guido il problema muscolare Nelson anche lui lo stiramento però c'erano pronti Carnaghi Manzani Bertrand che hanno alzato l'intensità degli allenamenti oltre a quello poi c'è anche la loro voglia di dimostrare di meritarsi la categoria perché come abbiamo visto quando hanno l'opportunità di entrare in campo danno sempre il massimo e quello è fondamentale è fondamentale per l'intensità è fondamentale per tenerci allenati non solo per la loro crescita ma anche per la crescita della squadra la differenza magari l'ho detto tante volte grande rispetto per Kadim che era un ragazzo squisito di una grande disponibilità però in questo dicevo nella nel tuo ulteriore crescita credo che ci sia anche un merito di Bertrand perché l'anno scorso in allenamento banchettavi quest'anno o ti giochi contro Bertrand qualche volta qualche sberla qualcosa da rizzitello arriva anche per te l'intensità del lavoro è cambiata sì prendo un po' di schiaffi come dice Giorgio di prendermi a schiaffi sì poi si vede c'è una struttura fisica incredibile Bertrand e sotto lì si fa sentire grosso gomiti e poi se ci aggiungi l'esperienza di Nelson quando sono in quintetta insieme è difficile entrare in area te lo assicuro però servono sono le botte tra virgolette agonistiche che servono in un allenamento per far migliorare la squadra e per simulare al meglio la partita le situazioni di gioco il miglior tiratore da tre del campionato negli ultimi due anni Balanzoni ha fatto tre triple tre canestre in due anni al 100% dall'arco tripla fondamentale a Piombino in quella 6 a 2 su 3 ecco clamorosa l'anno scorso con la tripla a Piombino è fondamentale anche quella di sabato diciamo di Carnaghi quando è stato preso Carnaghi ti avevo chiesto un giudizio su Simone e tu mi avevi detto è un buon giocatore paradossalmente io me lo aspettavo meno pronto di quanto sia invece questo è un ragazzo che quando entra in campo ha personalità perché nell'uno contro uno è sveglio è bravo sbatte spesso l'avversario non ha paura di prendersi responsabilità quando appunto viene giocato e viene impiegato e salvemmeli diversi minuti gli ha dato comunque queste prime 12 barra 13 12 sì 12 giornate di campionato e in allenamento è un bel torello a me piace molto anche come struttura fisica secondo me questo può diventare un giocatore sicuramente mi fa piacere che Simone stia facendo bene io ho parlato anche recentemente lui è molto contento della scelta fatta ovviamente per lui è una grande occasione di crescita perché come tutti i giovani che arrivano e si affacciano nel mondo senior quindi in uscita dal settore giovanile è fondamentale il gruppo in cui si inseriscono e dai giocatori da cui possono rubare un po' il mestiere i segreti imparare perché poi nell'allenamento che questi giovani crescono se poi hanno anche la fortuna di guadagnarsi in allenamento perché hanno sono pronti a giocare perché poi dopo gli allenatori fanno giocare i giocatori che sono pronti a giocare il campo e il campo lo sta tenendo bene sta prendendo le giuste iniziative insomma mi fa piacere per quello che sta facendo Simone e per tutti i giovani che come lui sono adesso in un mondo senior cioè sono in uscita dal settore giovanile Simone come altri è un giocatore che abbiamo allenato al college negli ultimi anni nel progetto college negli ultimi anni e quindi insomma ci fa ben sperare che il lavoro che stiamo facendo possa andare avanti mi hai dato un assist in questo senso l'ho detto forse baschettando a martedì scorso o due martedì fa il grande merito del college al di là di quello che ha fatto nei risultati del settore giovanile è quello di creare giocatori pronti pronti a giocare allenarsi in A2 a giocare qualche minuto in A2 in Serie B in Serie C Gold in Serie C Silver in Serie D cioè dal vostro settore giovanile escono giocatori pronti e questo credo che sia il merito più grande scusami un'altra cosa un'altra soddisfazione adesso la convocazione nazionale del ragazzo da Under 16 sì diciamo che in questo momento il college e tutte le società affiliate a college o che collaborano con college stanno continuando questo progetto che onestamente sta andando bene abbiamo dei giovani in uscita che quest'anno abbiamo diversi giocatori in Serie B per fortuna e quindi che stanno facendo l'esperienza senior come Simone ma dai Maso Paoli fino ad arrivare a Rupila Roma insomma tanti giocatori Crusca che adesso già da un paio d'anni che gira in Serie B Flavio Gai che sarà anche un prossimo vostro avversario non gioca non gioca perché infortunato già sei infortunato è vero Pedrazzani a Vicenza insomma sono tanti giocatori sotto a questi primi giocatori in uscita questa prima sventagliata ci sono delle squadre giovanili che stanno facendo bene dove stanno crescendo dei giocatori interessanti a Tademo e nazionali in questi giorni a Cantù speriamo che vada anche a fare l'esperienza con la nazionale al torneo in Spagna abbiamo la fortuna di aver partecipato in questi giorni anche a tornei internazionali siamo appena tornati da Tenerife ieri sera con il gruppo Under 15 quindi abbiamo sicuramente la possibilità di lavorare al meglio il nostro focus il nostro obiettivo è questo e credo che ci stiamo impegnando e continuiamo a ricercare il miglior modo per poter allenare questi giovani caro Alberto un flash anche siamo a dicembre all'inizio dell'anno abbiamo avuto tuo fratello presidente ospite aveva dato le prime sensazioni le prime idee i primi così step del progetto Paffoni 2019 2020 a distanza di quasi un girone ti chiedo un giudizio da parte vostra sulla realtà che state vivendo in primissima fila perché l'hanno detto anche i ragazzi tante volte il fatto che per esempio la società sia con te soprattutto presente almeno due o tre volte in settimana tutti gli allenamenti quindi un primo giudizio un primo bilancio da parte vostra se siete soddisfatti di questo di questo progetto e chiedo a te poi anche a Birillo che so che ci tiene molto perché ogni tanto ne parliamo del discorso relativo al palazzetto la scorsa settimana c'è stata la visita del presidente Cirio c'era anche Marco alla alla visita ufficiale insomma finalmente veramente oramai ci siamo quindi quanto anche quel palazzetto può portare ulteriore l'info ulteriore entusiasmo nel progetto nel breve ma anche nel medio lungo termine io ti ho sempre sentito molto ottimista circa il palazzetto dello sport di Gravellona e ti devo dire che non condivido questo tuo ottimismo comunque è evidente che il futuro della della Fulgor anche diciamo se un giorno dovessimo ritornare a disputare la serie superiore è strettamente legato a Gravellona noi a Verbagna ci troviamo benissimo siamo trattati bene ci sentiamo a casa però voglio dire se il progetto deve crescere deve passare attraverso ovviamente dei passaggi e il primo passaggio è assolutamente gravellona noi ci siamo trovati con una una realtà molto complessa perché la Fulgor è di fatto una vera e propria impresa e con tutto quello che comporta annesse connessi tempo un sacco di di problematiche che ci si presentano tutti i giorni però insomma voglio dire sia Marco che che io siamo animati da questa grande passione da questo amore sconfinato per per la Fulgor e credo che non possiamo che confermare il nostro impegno ad andare avanti con serietà con voglia con entusiasmo vediamo poi che cosa succede per adesso voglio dire è ovvio che dal punto di vista sportivo tutti i traguardi sono stati centrati quelli che ci aspettavamo come avevamo già detto ai ragazzi allo staff tecnico e a tutti a noi premela come primo traguardo la Coppa Italia cioè arrivare a disputare un'altra volta per la quarta volta consecutiva le final ormai ci siamo però sai visto quello che è accaduto a Borgossesi però diciamo che c'è lo sconto diretto Firenze e San Mignato è una delle due perde punti basta addirittura una vittoria nelle prossime quattro giornate ok però tu hai visto che anche le squadre siciliane adesso arriva Costa d'Orlando al Palabattisti sono cresciute nel corso di queste stagioni Torrenova ha vinto domenica Palermo è imbattuta da sei giornate ha perso forse l'ultima partita l'ha persa proprio a Torrenova il derby per cui insomma ogni partita va affrontata con serietà e senza infatti adesso vediamo a Cicinardi non pagare Dazio con il grande entusiasmo sviluppatosi dopo la partita in Firenze mi tocca sventirti in questo senso non è che sono ottimista però finalmente andandoci tutte le settimane da tre anni i servizi sono finiti gli spiegatori sono finiti le tribune sono finite l'impianto di scalamento è fatto l'impianto di illuminazione è fatto l'impianto di eredizione è fatto manca solo il parquet e grazie a Dio tento di farmi coinvolgere dal tuo entusiasmo purtroppo siamo in Italia è vero però quando ci sono delle esposizioni insomma delle parole così chiare quando è stato detto a gennaio c'è l'appalto da parte del presidente della regione la conferma dei 150 mila euro che si vanno a sommare gli altri 250 del comune per consentire appunto l'appalto a gennaio dei 350 mila euro per completare la parte sportiva direi che veramente deve succedere un cataclisma per non andare a giocare a settembre insomma io già non so se stai sentato tu sabato a Firenze a parlare di ottobre o novembre quindi vedi già che no ottobre perché parte ottobre è campionato per quel motivo no perché parte ottobre birri lorine perché cent'anni che ne parliamo di quel palazzetto sì io sul palazzetto di Gravellona non mi esprimo direi che fin quando no mi esprimo ma non è che mi si è spesso il presidente non è che anche con il presidente insomma in maniera chiarissima poi lascio tu sei iper competente sul palazzetto io non entro in questo campo però ci vado e quindi ripeto con il sopralluogo di quattro giorni fa mentre avete visto anche a casa le immagini perché mentre parlavamo avevamo le immagini è chiaro che ripeto adesso è lì nel senso un anno fa mi ricordo mi è venuto un ricordo su facebook di quando ero andato prima di un derby Lugano-Ambri di Hockey con mia mamma che avevo portato l'anno scorso c'erano i pali di ferro in un anno pensare quanto sia probabilmente siamo d'accordo nel dire che doveva essere fatto così dieci anni fa e va bene ma in un anno pensare a quello che è stato fatto è veramente incredibile perché ho rivisto le foto di un anno fa mi è uscito proprio l'altro giorno il ricordo è davvero incredibile meno male che arrivi a questo benedetto palazzetto dai ottimismo l'ottimismo lo sposiamo lo sposiamo saresti contento Jacopo sei pronto perché lui ha detto una cosa Carlo Alberto noi abbiamo fatto di tutto stiamo facendo di tutto poi alla fine della fiera quello che conta siete voi eh sì dobbiamo tenere dobbiamo meritarci questo palazzetto sicuramente sarebbe una comodità perché comunque Verbagna come ha detto Carlo Alberto ci ospita benissimo però sono comunque 20-25 minuti ad andare poi il sabato sera c'è pioggia c'è buio magari qualcuno è anche restio a fare quel tragitto invece Gravellona sarebbe un po' al centro cioè Traumegna e Verbagna non è non è eccessivamente lontano da nessuno dei due quindi sarebbe ottimo vedremo adesso sei tu capocantiere capocantiere mi chiamano mi prendono i giro i miei amici ogni tanto mi dicono tirano fuori guarda c'è una cosa bellissima di un grande amico che è Enrico Marelli che è mancato due mesi fa nella firma del forum c'è una mia frase del 2006 tra qualche mese e poi l'anno prossimo palazzetto pronto a Gravellona c'è questa frase che lui aveva aveva sul forum basketcafè del grande amico Enrico te la ricordavi? sì sì me lo ricordo perché ce ne sono tre o quattro mi sembra che lui ha sempre segnato e questa è una di quelle ormai trattate c'è un palazzetto citazione era mia la citazione allora facciamo una cosa andiamo anche a vedere il punto relativo alla serie D dove Marco la Polio Posti in decisa crescita Polio Posti fin domo quattro vittorie nelle ultime cinque giornate ha vinto anche la Nobili un po' in difficoltà quest'anno fino adesso invece la Vega che non riesce a trovare forse lo spunto per essere all'altezza delle aspettative dichiarate sì i campionati Minors come vengono definiti hanno delle dinamiche anche un pochettino strane anche di alchimia quindi c'è tutto il tempo secondo me anche per Gravellona di trovare i giusti equilibri diciamo risalire anche la classifica insomma perfetto allora guardiamo il punto sulla serie D torna al successo la Nobili Don Bosco Borgomanero che in casa supera Gagliate 88-62 grazie ad una buona prova nel primo quarto sono gli attacchi a farla da padrone con i bianco-blu che riescono a prendere qualche punto di vantaggio nella terza frazione la Nobili prende largo grazie alla difesa e a qualche canestro facile in contropiede e sostanzialmente non si volterà più indietro gli ultimi dieci minuti sono di gestione per i ragazzi di Colcerbetta che vincono 88-62 trionfo anche per la Polioposti fin d'uomo cestistica domodossola che stende a 9 ligure 105-61 buona partenza dai Granata che vedono però gli ospiti tenere botta suon di triple nel secondo quarto prove di fuga da parte degli ossolani che raggiungono la doppia cifra per poi scappare definitivamente dopo la pausa lunga la quarta frazione è Accademia con qualche giocata spettacolare spazio anche per i più giovani e la vittoria finale per 105-61 capò infine per la vega occhiali incontro Gravellona che cade a Novara contro il Vittoria 69-63 purtroppo i ragazzi di Cocibuarotti incappano in una cattiva serata al tiro e non sono particolarmente brillanti sulle palle vaganti e a rimbalzo comunque la reazione arriva nel terzo quarto chiuso avanti 45-49 tuttavia i novaresi ne hanno di più e Gravellona deve arrendersi 69-63 nel prossimo turno Borgo Manero ospiterà la capolista Reba Domodossola attenderà Gagliate e Gravellona andrà a Tortona Dunque parte finale Berillo un bilancio del corso l'abbiamo già fatto prima Arona sta facendo bene poi ci vedremo il servizio relativo al punto del settore giovanile da prima squadra avete avuto un attimino un mesetto fa due sconfitte consecutive dopo aver conquistato il primato e adesso invece siete ripartiti con due o tre vittorie Sì abbiamo ripreso il cammino abbiamo ritrovato degli equilibri ovviamente Arona è una squadra giovane con tre segni ovviamente di grandissima esperienza stanno facendo diciamo che i giovani stanno sfruttando l'esperienza che hanno già avuto l'anno scorso e quindi sono stanno diventando un fattore di partita in partita e onestamente anche l'ultima partita abbiamo fatto sicuramente una buona gara soprattutto nei primi venti minuti poi come tutte le squadre giovanili ci siamo un po' complicati la vita da soli e poi in un finale un po' a thrilling abbiamo conquistato la vittoria che secondo me era anche meritata per l'espressione del gioco di quella singola partita però al di là di quello credo che la prima squadra stia facendo bene e sia un po' il risultato se vogliamo parlare di risultati di tutto il mondo di Arona legato a college che si sta sviluppando e quindi come diciamo coperchio di questo progetto ovviamente anche Paruzzaro che è un campionato sotto che è infarcita anche lei di giovani provenienti dal settore giovanile di Arona sta facendo un buon campionato e ovviamente poi nel settore giovanile più che parlare di risultati di campionati bisognerebbe guardare un po' come stanno crescendo i giovani ovviamente se questi giovani crescono bene si vincono anche più partite che poi dà la soddisfazione a tutti però possiamo dire che adesso abbiamo sicuramente siamo contenti e vorremmo fare ancora di più di quello che stiamo facendo e alcune squadre stanno facendo bene nei singoli campionatini più qualche atleta sta facendo anche esperienze extra come le tappe di EBL a cui noi partecipiamo insieme ovviamente a College qualche giocatore nostro adesso sarà addirittura in selezione regionale alla Lude Cup quindi in preparazione al trofeo delle regioni quindi sulle annate piccole però al di quello abbiamo la possibilità di fare tante cose che ci permette quindi di aumentare l'esperienza e di far crescere i giovani caro Alberto poi ci vediamo il punto del giovanile e chiudiamo abbiamo detto che gli appuntamenti prossimi sono per la beneficenza giovedì ci sarà lo spettacolo teatrale a Casale Cortecerro della compagnia Quidla Mai Gasha penso di averla pronunciata giusta perché il mio dialetto non è perfetto sarà una viva la sposa se non ricordo male si viva la sposa proprio in dialetto con il ricavato a favore dei bambini e a favore dell'associazione promozione dell'anziano di Casale Cortecerro poi il 15 ci sarà la cena al Lago delle Rose di Ornavasso il 14 l'ultima partita a Casalinga contro Costa d'Orlando come diceva Carlo Alberto possiamo già svelare che ci sarà una sorpresa una maglia limited edition Carlo Alberto che poi sarà messa all'asta se i tempi lo consentiranno ma le ultime notizie sono positive appunto ci sarà questa maglia che potranno acquistare i tifosi questo per dire come ci sia tante cose che bollano in pentola ma la maglia con Costa d'Orlando o in trasferta no no con Costa d'Orlando dicevo tante cose che bollano in pentola a testimonianza del progetto dell'universo che è continuamente in fermento e in movimento Carlo ma sì assolutamente sì grazie all'impegno di tanta gente il mondo fulgo è presente anche nel sociale sul territorio e poi dopo i risultati ripagano perché voglio associare associarmi a quanto ha detto Giorgio Salvemini nell'immediato dopo partita di sabato sera avere quasi 50 persone che si fanno 800 km tra andate e ritorno per venire a vedere la fulgora a Firenze credo che sia un valore assoluto che attesta l'unione che esiste fra la squadra la società e diciamo la gente di Omegna del nostro territorio ecco il nominato sociale ce n'è uno di fuori il grande Giorgio Baldioli che mi deve consegnare i panettoni che salutiamo da fuori Jacopo sulla ho detto Carlo Alberto poi chiudiamo sì fa piacere fa piacere vedere così tanta gente al seguito un sabato sera una trasferta così lunga ed è testimonia il fatto che il pubblico della fulgora è sempre attaccatissimo a noi ma la dimostrazione c'è in ogni occasione sempre presente e questo ti dà una spinta in più sicuramente offrire lo spettacolo dei primi 27 minuti non era un bel riconoscimento per chi si è fatto tutta quella strada e fortunatamente siamo riusciti a raddrizzare il risultato a portarlo a casa in contrastato del pubblico di Omegna per quello che è Jacopo Balanzoni io ringrazio Jacopo grazie a te ciao a tutti buona serata grazie Carlo Alberto grazie a te e buona serata a tutti grazie a Birillo ciao Biri ciao grazie a tutti ora il punto delle giovanili ci vediamo con Baschettando a martedì prossimo la serie C Silver torna a vincere trascinata da un super realini sul campo di settimo torinese i la quali giocano una partita di grande cuore andando oltre le difficoltà e trovando una vittoria soffertissima su un campo complicato 6-7 6-8 il finale due punti importanti anche per l'Under 15 gol di Petricca capaci di riscattare il capo di Oleggio sconfiggendo nel derby l'altra Novarese trecate 50-54 nulla da fare per l'Under 13 elite bianco-verde fermata al Palaviking dai bianco-rossi del Novara Basket capaci di imporsi con il punteggio di 83-64 servirà tanto lavoro e voglia di migliorare per ritornare sulla strada giusta K.O. interno per l'Under 13 regionale di Coach Bertoli Arona cede sul campo di casa al cospetto della New Form scese a 51-53 al termine di una supplementare è mancata la lucidità necessaria nel prolungamento ma non si deve disperare con il duro lavoro ed il miglioramento è atteso e sarà dietro l'angolo grande vittoria dell'Under 13 femminile che ha superato 77-16 Novara Basket squadra alle prime esperienze che tuttavia ha combattuto con coraggio ma non si deve disperare ma non si deve disperare grazie a tutti grazie a tutti